Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi bambini ben ritrovati. Un altro incontro sulla dottrina cristiana. Iniziamo subito con la preghiera, con la preghiera del Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la Tua santa volontà e per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Diciamo un Ave Maria. Siamo nel mese di maggio, mese dedicato alla nostra Mamma Celeste. Quest'Ave Maria, come al solito, per il nostro Santo Padre, benedetto. Per i nostri cari e per tutte le persone che soffrono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Carissimi bambini, l'altra volta vi avevo insegnato come rispondere alla domanda Alla domanda come è Dio. Ecco, come è Dio. Avevamo scritto sul quaderno, mi pare. Senz'altro, spero che l'abbiate fatto. Come è Dio? Ci sono cinque risposte. È eterno. È sempre stato e sempre sarà. È onnipotente. Può fare tutto ciò che vuole. È purissimo spirito. Non ha corpo. È immenso. Perché è in cielo, in terra e in ogni luogo. È onnisciente. Sa tutto. Anche i nostri pensieri. Bene. Ma oggi volevo spiegarvi un'altra cosa che riguarda Dio. E cioè un grande mistero. Un grande mistero che non si può spiegare. In effetti, essendo un mistero, non si può proprio spiegare. Ed è il mistero della Santissima Trinità. Anzi, questo è proprio il titolo di questo incontro che dovreste scrivere sulla pagina di oggi. Il mistero della Santissima Trinità. Comincio subito con un racconto che riguarda questa illustrazione. Questa illustrazione parla del battesimo di Gesù nel Giordano. Un giorno Gesù, questo nel disegno è lui, andò da Giovanni Battista. Questo è Giovanni Battista. Si chiamava Battista perché battezzava sulle rive del Giordano. Giovanni Battista era un profeta. Dio lo aveva mandato a battezzare il suo popolo. E tutta la gente, non tutti però, tanti andavano farsi battezzare. Vedete che fa scorrere acqua sul capo delle persone. Le fa immergere nel fiume. Ecco, molti andavano farsi battezzare e per esprimere il dolore dei propri peccati. Per chiedere perdono a Dio per i propri peccati. Questo era il significato del gesto che Giovanni Battista invitava a compiere. Un giorno si presentò anche Gesù. Gesù però non aveva peccati da farsi perdonare. Ebbene ci andò anche lui. In quella circostanza accadde un fatto straordinario. Accadde che si sentì una grande voce, una voce potente dal cielo, provenire dal cielo, che diceva queste parole «Questi è il mio figlio di letto», che vuol dire amato. «Ascoltatelo». E tante persone che si trovavano sulla riva del Giordano per farsi battezzare sentirono chiaramente quelle parole «Questi è il mio figlio di letto, ascoltatelo». Chi è che diceva queste parole? «Queste parole che provenivano dal cielo» «Era Dio Padre». Poi sappiamo che Gesù non è solo uomo, ma è anche Dio, è il figlio di Dio che si è fatto uomo. Non si udì solo la voce del Padre dal cielo, ma anche le persone poterno vedere lo Spirito Santo scendere come una colomba su Gesù. Quindi sono presenti tre persone in questa circostanza. Oltre ovviamente al profeta Giovanni Battista le tre persone sono Dio Padre che parla dal cielo, lo Spirito Santo che scende su Gesù e Gesù stesso che è il figlio di Dio. Quindi nel Vangelo noi troviamo un solo Dio. Ricordatevi bambini, Dio è uno solo. Non ci sono più divinità. Ce n'è una sola. Dio è uno solo. Ma, ecco ma, però, però, in tre persone. Una, un solo Dio, tre persone divine che si chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è il mistero di cui oggi voglio parlarvi. E ci sono allora queste domande e risposte che voi fareste bene a scrivere sul vostro quaderno. La prima domanda è questa. Lasciate perdere i numeri che a noi non interessano. Prima domanda. Dio è uno solo? E scrivete Dio è uno solo, virgola, ma in tre persone uguali e distinte, virgola, che sono la Santissima Trinità. Persone è maiuscolo perché sono persone divine. Quindi persone uguali sia nella sostanza, cioè nella natura divina. Uguali perché nessuna è più importante dell'altra. Il padre non è più importante del figlio, né il figlio più importante del padre. Sono persone uguali in dignità, però distinte. Il padre non è il figlio, il figlio non è il padre, lo Spirito Santo non è il figlio. Sono uguali e distinte. La seconda domanda come si chiamano queste facili? Come si chiamano le tre persone della Santissima Trinità? Le tre persone della Santissima Trinità si chiamano padre, figlio e Spirito Santo. Però quella più importante delle due è la prima. Dio è uno solo, ma in tre persone uguali e distinte. che sono la Santissima Trinità. Queste domande, queste risposte sono da imparare questa settimana. In più bisogna imparare a fare bene il segno di croce perché so che alcuni di voi lo fanno in maniera svogliata e sbadata o frettolosa o male addirittura. Bisogna farlo bene. Noi quando facciamo il segno di croce, bambini, dobbiamo pensare che siamo di fronte a Dio. Ogni volta che preghiamo siamo di fronte a Dio. Quindi le cose vanno fatte bene. Si comincia portando la mano destra, vedete questa bambina fa il segno di croce al mattino quando si alza alla sera quando si corica nel nome del padre, quando si dice nel nome del padre la mano destra deve essere sulla fronte e del figlio la mano destra deve essere sul petto e dello spirito la mano destra è sulla spalla sinistra, santo la mano destra sulla spalla destra. e poi si congiungono le mani mani giunte dicendo Amen. Va bene bambini cercate di fare bene il segno di croce perché Dio bisogna rispettarlo e onorarlo è il nostro creatore è il nostro Signore. Un'altra cosa che potreste imparare anzi vi invito a imparare questa settimana e che tanti di voi sanno perciò non è una cosa nuova forse qualcuno non lo sa ancora bene va imparato bene la preghiera del gloria al padre eccola qui gloria al padre gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli Amen. gloria cosa vuol dire onore gloria lode ecco gloria alla Santissima Trinità è vero dall'inizio cioè da sempre ora e per sempre guardate che bello questo disegno che rappresenta la Santissima Trinità c'è il padre con la barba lunga che ha sulle ginocchia un globo è il mondo è l'universo il figlio sulla sinistra con la croce perché morto in croce e lo spirito santo raffigurato come una colomba ecco per concludere volevo raccontarvi un episodio molto bello un episodio importante perché vi dicevo all'inizio che questo è un mistero che la nostra mente non può comprendere ecco questo episodio è l'episodio di Sant'Agostino sulla sinistra questo che passeggiava sulla spiaggia del mare e vede questo bambino che con un piccolo recipiente porta l'acqua del mare dentro alla buca e Sant'Agostino mentre pensava a Dio perché era un grande teologo uno studioso di Dio mentre pensava e passeggiava lungo la spiaggia vede questo bambino e chiede cosa stai facendo bambino e lui risponde vedi l'acqua del mare la voglio mettere tutta dentro a questa buca che ho fatto e allora Sant'Agostino dice ma è una cosa impossibile non potrai mai fare fare entrare tutta l'acqua del mare in questa piccola buca il bambino sapete cosa ha risposto e anche tu guardate come lo indica con la mano anche tu non puoi fare entrare il mistero della Santissima Trinità nella tua piccola testa poi Agostino rimane stupefatto ma in quel momento il bambino scompare quel bambino era un angelo mandato da Dio per insegnare a questo grande studioso che era inutile continuare a riflettere su questo mistero perché è al di sopra delle possibilità della mente umana possiamo soltanto credere per fede infatti che Dio sia uno ma in tre persone è una cosa difficile da dimostrare ma è così perché il Signore ce ne ha parlato nel Vangelo ecco bambini terminiamo questo incontro con l'Angelo di Dio perché ci aiuti a fare sempre la volontà di Dio nella nostra vita Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen vi ricordo anche e vi invito a fare anche un disegno sulle cose che abbiamo detto sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen